Puoi salvare un match point, puoi salvare sulla linea, ma con un defibrillatore puoi salvare chi ha un arresto cardiaco. Da ottobre sarà obbligatorio in tutte le strutture sportive e il più semplice da usare è il defibrillatore Samaritan Pad. Il più piccolo, il più leggero e l'unico con 10 anni di garanzia. Samaritan Pad, il tuo angelo custode.